nel borgo di Rotondo, interventi che hanno dato un voto nuovo a questo antico borgo che ha un interesse particolare sia dal punto di vista storico che paesaggistico. Sostanzialmente abbiamo realizzato due interventi che come Comune di Sessuali abbiamo voluto fortemente in questi anni. Uno che riguarda la riqualificazione appunto del borgo storico con il recupero delle stradine, delle pavimentazioni, delle vallarucle, delle muri, il rifacimento della illuminazione pubblica, nonché la messa in sicurezza della porta medievale di accesso al borgo. E l'altro invece che riguarda la rocca, l'antica rocca che è stata sottratta alla definitiva demolizione, all'oblio in cui era lasciata in questi ultimi anni ed è stata recuperata, messa in sicurezza e oggi è una torre panoramica importante, fluibile a tutti. Quindi poi nel dettaglio abbiamo qui l'architetto Priori, dovrebbe arrivare anche l'architetto Prosecco della sovrintendenza. Ci daranno dei dettagli più precisi in ordine agli interventi che sono stati fatti. Interventi comunque che hanno comportato una spesa complessiva di 340.000 euro, dei quali 115.000 stanziati direttamente dal Comune di Sassò Ferrato e 225.000 sono venuti attraverso i bandi del Gallo Colli e Sini San Vicino. Quindi una sinergia, un utilizzo dei fondi europei che ci ha permesso di realizzare questi due interventi che sono stati portati avanti dalla ditta Cipriani Costruzione di Cerredo Desi e dalla ditta Aldo Ilari insieme all'Idratel di Sassò Ferrato per i due stralci diversi. Bene, dicevo un intervento che ha voluto dare un voto nuovo, una veste nuova, un look nuovo a questo borgo ma che non vuole essere solo, anche se è importante essere, come dire, rendere più confortevole per chi vive qua durante l'inverno, per chi passa qua in momenti di vacanza, di ferie a questo borgo ma vuole essere anche un'opportunità per il lancio del territorio, in particolare per i riflessi positivi che può avere ai fini dello sviluppo turistico di questa zona. Il collegamento va da sé con gli altri interventi che abbiamo fatto qui intorno. Cinque luglio abbiamo inaugurato il Parco Alto Minerario a Cabernardi, una realizzazione importantissima che si attendeva da tanti anni che quindi è un altro elemento grosso di attrazione per questo territorio e che unitamente quindi anche al recupero del Borgo di Rotondo, se poi pensiamo al collegamento con il Santuario del Cerro, qui vicino, quindi un turismo religioso, se poi lo colleghiamo con il turismo anche sportivo, con il Doglio Bike Park che è qui vicino, ecco che quest'area si configura come un'area di grande attrazione. Ecco quindi abbiamo posto in qualche modo le basi per uno sviluppo nuovo per questo territorio che ha vissuto in passato momenti importanti, felici, di ricchezza per l'attività che c'era in questo territorio. Oggi può vivere una nuova stagione che si deve essere basata sul turismo. Quindi ecco, io nel ringraziarvi ancora per questo momento che avete voluto condividere con noi e che insieme all'Amministrazione Comunale e gli assessori presenti qui abbiamo avuto piacere ecco di condividere anche noi, quindi vi ringraziamo per questa opportunità. Proseguiremo poi con il taglio ufficiale del nastro, non prima però di aver ascoltato un attimo l'architetto Floriano Apriori che è consulente dell'ufficio tecnico, che il quale voglio anche ringraziare perché ha redatto il progetto insieme, con la collaborazione anche della sovrintendenza, oramai collaboriamo su tanti interventi sul territorio. Quindi qualche elemento più specifico sull'intervento che sono stati fatti, tagliamo il nastro e poi facciamo una visita fino alla Rocca Torre Panorale. Quindi grazie ancora e buon proseguimento. Buonasera a tutti, io sono Adriana Apriori, il comune di Sassi Ferrato, ho collaborato con tutti i progetti. Qualche dettaglio tecnico ve lo do, soprattutto sulla Rocca, perché per quanto riguarda il borgo gli interventi fatti credo che siano evidenti, visibili e le motivazioni anche. Si è ripristinato il muraglione che esisteva anticamente, che poi in alcune manutenzioni poco felici si era tagliato in parte ed era stato sostituito con una balaustra in ferro. Abbiamo sistemato i sottoservizi e quindi c'è anche una parte di lavoro che non si vede, che sta sottoterra ma che ovviamente contribuisce alla riqualificazione del borgo. Delle note invece più particolari si hanno per la Rocca. Quando abbiamo iniziato il progetto della Rocca, la Rocca era un rudere, colmo delle macerie della Rocca stessa, perché dopo un intervento di ripristino e di messa in sicurezza fatto dalla soprintendenza intorno al 1950, nella pubblicazione di Sebastianelli, va scritto che un fulmine aveva rovinato la parte sommitale della Rocca e l'amministrazione poco illuminata di allora, non come quella attuale, di Sassuferrato, scelse di, siccome la Rocca era pericolante e creava un pericolo per le abitazioni circostanti, scelse, siccome non aveva probabilmente le somme per la messa in sicurezza, la fece demolire in parte, però buttando le macerie all'interno della Rocca stessa. E questo negli anni ha provocato un grande problema, perché con le piogge, le radici degli alberi che verranno nati all'interno, questo aveva comportato l'esplosione delle murature esterne della Rocca stessa. Con questa situazione, all'inizio del progetto, insomma, il tentativo era stato quello, soltanto del, data anche della somma esigua che avevamo a disposizione, di svuotare la Rocca e lasciare, diciamo, la torre poligonale così com'era. Invece poi, durante il proseguimento dei lavori, tra l'altro assistiti dalla dottoressa Pamela Damiani per la sua intendenza, abbiamo innanzitutto verificato che un muraglione che era nei pressi della Rocca e che pensavamo facesse parte della stessa struttura muraria non ne faceva parte. E quindi abbiamo avuto un'economia, diciamo, dalla messa, dal restauro di quel muraglione che non è stato necessario restaurare, perché probabilmente era soltanto un muro di cinta di qualche appezzamento di terreno. Invece, durante i lavori, ci siamo accorti che probabilmente sotto il vano che era venuto fuori una volta svuotata la Rocca dai detriti, c'era un altro vano e quindi la Rocca stessa era costituita da un piano terra e da un piano superiore. E ce ne siamo accorti con l'impresa perché vedevamo un arco e avevamo visto una feritoia sul lato opposto e sentivamo del vento arrivare. Quindi abbiamo a un certo punto scavato, liberato la Rocca, il piano terreno della Rocca da tutti i detriti che c'erano intorno, perché negli anni i detriti si erano accumulati, il terreno si era accumulato e abbiamo quindi trovato un vano inferiore, voltato, molto interessante che abbiamo riportato alla luce. E quindi attualmente la Rocca non è soltanto un poligono, diciamo, con un vano all'interno del quale si va, ma c'è un vano inferiore e un vano superiore. E probabilmente, e questo tra l'altro assimila la Rocca di Rotondo alla fattezza della Rocca di Sassoferrato, la Rocca dell'Albornoz. E probabilmente comunque anche la Rocca di Rotondo venne fatta costruita dallo stesso ordinale Albornoz, intorno all'anno 1910. Per quanto riguarda poi il recupero delle murature, si è recuperato tutto il pannello murario, si è ricostruita una parte della cresta muraria con una copertina in calcestruzzo ben impermeabilizzata in modo tale che non riescano più né gli agenti atmosferici né tantomeno, diciamo, i semi degli alberi ad attecchire per poi, diciamo, rovinare nuovamente la muratura. Abbiamo a un certo punto pensato di costruire la scala all'interno e una passerella per ribalire il concetto di torre di avvistamento. Cioè una volta che avevamo ripristinato la torre così com'era, con il vano accessibile, ci siamo detti che forse poteva essere interessante, dato la funzione appunto di torre di avvistamento nella posizione più alta di rotondo che la torre aveva, poteva essere interessante permettere al fruttore di rivivere la funzione che la torre stessa aveva. E quindi abbiamo fatto questa scala con questa passerella dalla quale appunto si ha la visione su tutte le colline che ci sono, insomma, intorno all'anno. Basta. Questo... Brava. Grazie. Intanto è arrivato anche l'architetto Paceco della Solitendenza Belle Arti e Paesaggio che collabora con noi su diversi fronti e che quindi ha collaborato anche in questa occasione. Quindi se vuole portare anche il suo contributo poi facciamo il taglio del nastro e facciamo una visita alla Rocca. Buonasera, io mi scuso per il ritardo ma mi ha preso un po' d'acqua per strada. Questa sera ho queste inaugurazioni un po' bagnate e speriamo anche fortunati. Vi porto i saluti della sovrintendente, l'autoressa imponente e appunto io lavoro alla sovrintendenza delle Belle Arti e abbiamo seguito questo progetto fin dal suo nascere, fin dalla fase progettuale, poi tutti i lavori a seguire e con, diciamo, con grande entusiasmo perché tutte queste iniziative che si sono svolte anche qui a Sessoferrato, ci sono stati diversi restauri di vari monumenti e quindi ovviamente a noi ci fa molto felice per fin questo periodo di grande crisi economica vedere che alcune amministrazioni e alcuni enti pubblici si preoccupano di restaurare beni culturali, insomma ovviamente non ci può far che felici. insomma. E devo dire, ecco, queste iniziative sono un po' rare in questo periodo, quindi la pensiamo particolarmente. E che dire del recupero? È un recupero che è stato molto attento agli elementi storici, tradizionali e originari e come adesso vedremo, ci mostrerà dal direttore dei lavori, dal direttore priori e quindi in particolare una cosa, diciamo, che dovremmo dire anche di questo sito è che è incastonato in una bellissima condizione materialistica, come voi tutti saprete e come avrete potuto ammirare. Quindi non soltanto un momento in sé, ma direi che qui abbiamo anche un paesaggio che è rimasto abbastanza intanto nella sua, diciamo, nella sua natura selvaggia, se vogliamo. Quindi questo castello ci ricorda un po' alle nostre tradizioni anche di origine medievale. e vi lascio al direttore dei lavori adesso per una visita. Grazie. 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 E' la mia amica famiglia. La mia amica famiglia. E' la mia amica famiglia. La mia amica famiglia. Oggi speriamo che sia ricordo per gli abitanti in rotondo, anche noi che ci siamo soltanto provvisoriamente nel periodo estivo sia veramente una giornata molto importante, una giornata che ricorderemo e soprattutto i giovani ricorderanno per molto tempo, perché con questo, con questa ristrutturazione che è stata data in questi momenti particolarmente difficili, come ricordava l'architetto, e quindi noi sentiamo veramente il dovere di ringraziare l'amministrazione, l'architetto, tutti coloro che hanno collaborato, l'impresa che hanno collaborato a realizzare questa opera che secondo noi è veramente venuta molto bella. Quindi dobbiamo fare i complimenti, ringraziare, e naturalmente noi ci fa particolarmente piacere, anche se questo lavoro l'abbiamo aspettato per tanti anni, però io credo che, io lo capisco, io credo di ancora. Quindi di nuovo tanti ringraziamenti al Sindaco, la Giunta e tutti coloro che hanno collaborato per questo. Grazie a tutti e grazie a tutti. Grazie a tutti.